ciao ragazzi e bentornati sul mio canale io sono il lanciere ed oggi ritorniamo con un nuovo video dedicato alla raccolta match attacks perché in questo video ci andiamo ad aprire altre team box sono le mega team abbiamo già aperto le booster team a questo punto ci apriamo anche le mega team sono quattro e contengono le carte limited edition time to shine ogni confezione contiene quattro carte limited edition quindi un totale di 16 carte diverse ogni box contiene 44 carte e 4 carte limited edition quindi 48 carte ogni box per un totale di circa 15 euro a confezione all'interno di queste scatole si possono trovare anche le carte rare come le relic o con medaglia o con pezzi di maglia eccole qui sono quattro vediamo se ci riusciamo a aprire tutte e quattro le confezioni prima di iniziare a spacchettare però io come sempre vi ricordo l'iscrizione al canale se ancora non avete fatta ragazzi è fondamentale vi ricordo che le view stanno andando abbastanza bene ma gli iscritti non salgono come le visualizzazioni quindi iscrivetevi al canale perché per me è fondamentale poi vi ricordo di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questi video e allora team box match attacks 2024 2025 fanno parte del bundle che serviva ad avere le carte blue diamond limited edition io ho preso tutti i bundle e così ho tutte le carte limited edition blue diamond prima team prima mega team è la numero uno queste non dovrebbero avere dei numeri dei nomi particolari sono tutte time to shine vediamo un pochino che cosa troviamo allora due pacchetti più il pacchetto limited edition andiamocela aprire subito andiamo veloci sulle carte più comuni da dove cacchio si prendono ragazzi ragazzi che bomba che abbiamo trovato subito quindi dall'altro lato dovevamo andare dovevamo andare dall'altro lato vabbè abbiamo trovato le carte speciali qui abbiamo trovato la carta all of fame di cristiano ronaldo così subito alla prima team cristiano ronaldo questa è una carta molto rara e infatti brand new rare all of fame chrome card cristiano ronaldo eccola qui mamma mia ragazzi che colpo al primo pacchetto della prima team qui ci sono intanto tutte le carte più rare e poi ci sono una serie di carte base che però a questo punto a noi interessano poco la carta del bologna eccole qui secondo pack un po se stavolta riusciamo a beccare il lato giusto è questo allora ne mettiamo così no nemmeno vintage vibes altre carte rare ragazzi sono sempre le stesse perché poi ne sono tanti in ogni pacchetto in ogni in ogni quindi dopo un po iniziano a diventare sempre le stesse carte tutte alla rovescia le mettiamo via e harvey heliot e milu molto bene due carte e ritace poi altre carte base siamo arrivati al primo pacchettino con le limite ed edition ce li andiamo ad aprire o che bomba time to shine di bucaio sacca molto molto bene la mettiamo da parte poi abbiamo benjamin sesco vitigna e santiago chimenez vitigna santiago chimenez e altri sono dei giocatori portati molto 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 in alto da da tops li troviamo praticamente quasi sempre in edizioni limitate o comunque edizioni speciali santiago chimenez quest'estate è molto vicino a un club italiano il napoli poi è saltato l'accordo intanto team numero due vi ricordo che se troviamo un quarto pacchettino all'interno della team significa soltanto qualcosa di buono ovviamente seconda team ancora nulla di fatto allora qui le mettiamo da questo lato e continuiamo con modri ciupamecano abbiamo deco mendi per le carte speciali poi un'altra serie di carte a rovescia raujo chim mi sembra che mi manca foda ne abbiamo visto a dei emil mazza tutte carte comuni altre due carte heritage abbiamo camarda camarda nella confezione tin diciamo match attacks poi abbiamo una carta crystal di tavernier e altre due carte speciali sono uno stemma e una carta capitano secondo pack altre 22 carte anche qui ragazzi ragazzi ne ho trovata un'altra ne ho trovata un'altra allora vintage vibes abbiamo trovato ibraimwich dovrei iniziare a sistemarle queste carte perché non sono riuscito ancora a metterle a posto quindi non so a che punto sono con questa raccolta gioia o mario intanto carte base allora ma c'è se united sotto 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 mi manca wen runei per finire il giro delle all of fame e ragazzi ho trovato proprio wen runei quindi 5 su 5 non ho trovato nemmeno una carta doppia all of fame bene diciamo che avrei potuto magari venderle per rifarmi delle spese ma bene così millo in questo già l'abbiamo vista bruno fernandez il capitano del matches united crystal e intanto andiamo alla team box numero 3 siamo in tempo se andiamo veloci riusciamo ad aprirle tutte e quattro in un unico video e allora c'è una quantità di colla impressionante su queste team quindi le sto distruggendo anche qui tre pack ragazzi mi sono dimenticato di aprire il pacchettino limited preso dalla carta all of fame mi sono dimenticato di aprire queste bombette qui time to shine di cole palmer poi abbiamo grimaldo per il leverkusen e guardate che avevo lasciato indietro avevo lasciato indietro jude bellingham e federico di marco non si fa ragazzi non si fa occhio che errore jude bellingham mettiamolo lì e intanto terza team pacchetti dalla terza team allora facciamo così e altro jude bellingham subito altro jude bellingham poi ci sono le tre carte che abbiamo visto al rovescio sempre base 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 sergio ramos continuiamo abbiamo visto sala poi qua dovrebbero essere carte speciali sì e abbiamo hendrick la firmata man of the match di diaz lucio questa mi mancava vintage vibes due carte ritace anche qui shiri e isaxen una e doppia sicuramente lo stemma crystal del paris saint germain e due carte speciali sono danilo capitano della juve e lo stemma del celsi secondo pack vediamo se continuiamo con questa con questo ritmo e magari portiamo a casa una terza hall of fame non mi pare non mi pare però 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 vedo qualcosa comunque di interessante allora qui abbiamo visto ibra caicedo lope star savio niccolò fagioli poi nunez carte base poi dovrebbero iniziare le carte speciali eccole qui vediamo un po abbiamo trovato una gold edge una gold edge è la numero 3 dell'arsenal ed è bucaio saca oltre a cantonare ragazzi guardate qui altra super carta bucaio saca gold edge edition questa anche mi sa che mi manca qui abbiamo trovato due crystal sono ben ghin e lo stemma del bayern e poi inter e lukas radeschi il portiere del leverkusen stavolta non ci dimentichiamo le nostre limited edition alta time to shine e arda guler erling aland vicino al suo amico karim adajemi e mati tell per il bayern di monaco ultima tin intanto per noi 4 tin box numero 4 e allora eccoci qua ultima tin spostiamo queste carte un po' più indietro e niente anche qui solo 3 pacchetti non abbiamo trovato nessuna carta speciale e forse è la prima volta il primo anno che non trovo una carta speciale nelle tin di solito almeno una cartuscella la porto a casa allora anche qui forse qualcosa di interessante c'è non interessantissimo mamma mia ti arrivi bellissima anche questa la trophy triumph di zanetti poi serie di carte base che ci interessa poco e nulla allora allora no è una 100 club speravo in una carta oro abbiamo gun calves man of the match la 100 club di virgil van dick eppure questa ce l'ho eppure questa ce l'ho arda guler carta heritage anche qui due carte crystal sono son e lo stemma dei rangers e lo stemma dei rangers anche in versione base con la casette capitano del lione ultimo pack per poi passare all'ultimo pack delle carte limited e niente ce l'ha andata bene all'inizio che poi ci siamo fermati pulisic intanto man of the match signature style linee care per il barcellona e militao poi carte base abbiamo hoiberg abbiamo visto florian wirz fabian ruiz che sta facendo un ottimo ottimo fine di stagione scorsa ottimo inizio anche quest'anno abbiamo la trophy triumph di manuel neuer questa mi manca cada yemi palma limited una sola carta crystal è lo stemma della real società forse già ce l'ho e poi son e la real società anche in versione base pacchettino finale ultime quattro limited e abbiamo fatto tutte e sedici limited edition e qua ci mancava yamal altra carta veramente molto bella alexander arnold teo hernandez e victor giocheres a terminare il nostro giro che dire ragazzi guardate qui che cosa ho trovato due hall of fame una dietro l'altra e vanno a terminare il giro delle hall of fame ragazzi ve le voglio far vedere perché le ho qui ed eccole qua abbiamo zidane malvini e e poi messi eccole qui le cinque hall of fame le ho completate adesso mi manca soltanto la carta di holland la versione maestro de madrid mamma mia ragazzi che carte che carte bellissime e allora detto questo io posso terminare il mio video abbiamo aperto tutte e quattro le mega tin ci manca ancora un box intero e tanti altri pacchetti della raccolta match attacks 2024 2025 li porteremo nei prossimi giorni intanto fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questa raccolta quale di queste super carte avete trovato anche voi quale vi mancano e quelle sono le carte che più vi interessano e che più cercate di questa collezione di livello europeo a questo punto però possiamo salutarci però prima io vi ricordo ancora una volta l'iscrizione al canale di attivare la campanella e soprattutto schiacciare un bel like a questo video e allora con tutte e sedici le carte time to shine limited edition di tops e con queste bellissime all of fame mica male ragazzi guardate qui da lanciere è tutto ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao